questo è il castiglio con 40 minuti di traghetto si arriva al castiglio si può anche andare nelle case dei pescatori e comprare pescato oggi abbiamo preso 7 aragoste al prezzo di 12 euro totale questo è il lo stretto che conduce alla baia di cenfuego qua passano tutte le navi che riguardano il settore mercantile era un castello del 1700 e ora è in ristrutturazione questo è la piccola cittadina intorno al castiglio case la chiesa e tutte le case dei pescatori